Bella a tutti Forniteers, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci in questo video per andare a vedere gli incarichi settimanali allora andiamo subito a vedere quali sono gli incarichi di questa settimana 3 eccoli qua, allora eccoli qua, danneggia gli avversari con la pistola monarca, la pistola monarca si trova in giro oppure quella che rilascia Doom quando lo andiamo a eliminare raccogli munizioni mentre hai uno specialista soldato, questa è molto semplice, dobbiamo avere uno specialista soldato e andare in giro a raccogliere munizioni sono 50, se andiamo quassù c'è il missionario, come si chiama, che lui ci rilascia proprio le munizioni lui raccogli armi dagli avversari eliminati, quindi bisogna raccogliere armi in giro dai avversari eliminati, eliminati non per forza da noi ma basta da chiunque distanza percorsa in un veicolo durante l'accelerazione turbo 500 metri, basta andare qui al nitrodomo, prendere un'auto e passare nei cerchi e premere ovviamente il turbo con la danneggia, un avversario entro 10 secondi da uno scatto, bisogna fare 3000 punti quindi qui dobbiamo andare in avversario, valgono anche gli scagnozzi e i boss quindi bisogna andare qui che ce ne sono di più, dove sono i tre boss, a castello di doom, a doomstead o qui a rift, a raft scattare e sparare, dopodiché ogni tanto scattare e sparare, scattare e sparare e questi sono gli incarichi ragazzi quindi sono abbastanza semplici, adesso vediamo se facciamo un video dedicato su questo qua e vediamo quali altri facciamo, comunque ragazzi mi raccomando un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video, ciao a tutti